Bene ragazzi io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite Raga grazie per tutto il supporto che mi offrite in ogni singolo video mattutino siete fantastici Spero di avervi fatto divertire ieri mattina con la mia trasformazione in Super Saiyan Ci sono già diverse clip su Youtube ed è... Vabbè, lasciamo perdere Sono passate circa 24 ore o quasi dalla disattivazione del Bruto in gioco Ma purtroppo ragazzi, purtroppo dobbiamo dirlo, è tornato Ce lo comunica come sempre la Epic direttamente tramite un suo tweet Dicendo che il problema con l'airstomp è stato risolto L'airstomp non è altro che quel momento in cui saltate con il Bruto e poi tirate quel mega calcio in aria per arrivare a terra Diciamo una sorta di boost che fa anche danno ai players che sono sul terreno Oltre a questo comunque sono dei giorni un pochettino di stallo per Fortnite a livello di notizie Il tutto è alquanto fermo e si aspetta il content update che avverrà il 3 settembre Quindi oggi video abbastanza breve, mi hanno anche detto che lo shop è carinuccio Vi direi di andarci a dare un'occhiata tutti quanti assieme Eccoci qua nel menu principale ragazzi Tra l'altro ancora devo andare a prendere la stella segreta delle sfide catastrofico Se vi dovesse servire vi lascio qua il video tra le schede Negozi oggetti 3 2 La notizia è stata riportata tramite l'ultimo aggiornamento ma sono solamente qui oggi a parlarvene Quindi sono passati già un pochettino di giorni Ma ormai è confermato ragazzi Fortnite X It Quindi Pennywise sta per arrivare sulla mappa di Fortnite Qualcosa che sinceramente non mi sarei mai aspettato di vivere all'interno di questo gioco Anche perché giocato da moltissimi ragazzini Non dico che It faccia super paura Però non so se le due cose possano combaciare tra di loro Il film che in questo caso è il secondo capitolo Uscirà il 5 settembre in tutte le sale dei cinema italiani E mi sa che il 5 faremo anche la live notturna per aspettare il mio compleanno Che dite? Dopo aver droppato la skinny del demogorgone In gioco mi posso aspettare di tutto ragazzi Non mi sorprenderei se buttassero anche una skinny di It Il pagliaccio sarebbe OP Madò Oltre alla risata che siete riusciti a sentire quando mi sono spaventato pochi minuti fa Sappiate che nei file è stato trovato anche un nuovo item Ovvero un palloncino Le cose sono due raga Ho skin nel negozio oggetti Più varie cose decorative all'interno della mappa Oppure ancora delle missioni da completare In collaborazione con It per quando uscirà Che ne so magari trova diversi palloncini rossi 0 su 6 Appena avrò maggiori informazioni ragazzi Non esiterò a portarvela qui sul canale Detto questo per davvero 3, 2, 1 Negozio oggetti Questo è lo shop di oggi Avvoltoio 1500 Lampo blu Criptico Carino carino Scava d'oro Oh ragazzi Andiamo subito su avvoltoio Vediamo questo backpack Sistema di contenimento di qualità militare Fa parte del set attacca aereo Ma è rapace nonché la skin del pacchetto 0 assoluto Rivisionata È lei raga È proprio lei È proprio lei Cioè non è brutta assolutamente Procediamo Andiamo oltre Ascoltiamo anche il piccone Lampo blu Eccovelo qui Pervaso dal potere del blu Non mi deludere Nì Si continua raga Delta plano da 800 Anche qui del liquido Blu Ci sta raga Mi piace però Non è il mio stile No vabbè ragazzi Negli oggetti giornalieri È tornata a fianchi I ballerini Attraversamento Ma quanto sono belli Si i balletti Quanto Poi abbiamo Taro Qui da solo Come vai se è da solo Fratello 1500 v bucks Per lui Ed abbiamo anche rinnegato 800 v bucks Per questa skin Super clean Scava d'oro Ghirigoro E Facepalm Sono gli altri tre Item presenti Negli oggetti giornalieri Quindi scava d'oro 800 Poi abbiamo Ghirigoro La andiamo A scorrere subitissimo Si tratta di Una wrap animata Da 500 v bucks Bellissima ragazzi Bellissima E poi Facepalm Raga Super easy Da acquistare Instant Rimane Criptico Che è una skin Da 1200 v bucks Raga Questa forse L'ho detto già In un video precedente Io ve la consiglierei Già solamente Per il back Backpack Questo backpack Si addice A tantissime altre skin Ma anche se non ci stesse Bene alla fine Raga Credetemi È uno dei miglior Backpack Presenti in gioco Lo potete associare A qualsiasi altra skin Sarà sempre bene È fantastico La spina dorsale Sotto forma di Hologramma Meravigliosa Poi la skin Poi la skin Stessa Mi piace un sacco Si va a concludere Il set di Criptico Con la sua Vrap Enigma Questa raga Un'altra Vrap Da 500 v bucks Sempre animata Qui si nota pochissimo Il suo effetto Magari lo possiamo notare Un po' di più Qui vediamo Ecco Infatti Devo dire che Il negozio oggetto Di oggi Ce lo siamo divorati In pochissimi secondi Come sempre ragazzi Vi ricordo che Se volete supportarmi Tramite tutti questi video Potete farlo tranquillamente Cliccando qui In basso a destra Sulla scritta Supporta un creatore E digitando Al centro della schermata Il mio codice JKRMARTEX Tutto attaccato Maiuscolo Minuscolo E sempre uguale Cliccate su accetta E aggiornatelo Ogni 14 giorni Io spero che Questo mini video Vi sia piaciuto E che soprattutto Vi abbia tenuto compagnia Se così fosse Lasciate un bel like Condividetelo con tutti i vostri amici E se ancora non siete iscritti Raga Iscrivetevi Noi ci becchiamo Nel prossimo video Un saluto da Martex SIA BLUERS